Il Sentiero Illuminato nel Centro della Dualità 6 Novembre 2011 Amati Maestri! Riconosceremo che questi sono tempi strani e sconcertanti per tutti voi, non importa quale livello di autoconsapevolezza abbiate raggiunto. Gli insegnamenti e le verità che avete accettato come vostri in questa vita vengono gradualmente sostituite da insegnamenti più elevati, più avanzati e molti nuovi concetti svalorditivi. Per raggiungere la maestria del sé dovete sviluppare le abilità del vostro superconscio ed i più raffinati poteri della mente. Questo comporta una pulizia mentale ed emozionale, e significa che dovete trovare e trasmutare tutte le vecchie forme pensiero, che vi tengono legati all'illusoria realtà delle caotiche dimensioni inferiori. Un essere spirituale barra umano a poco a poco diventa consapevole ed inizia ad affinare la mente subconscia, che porta ad una riconnessione con il sé spirituale e la mente superconscia. Questo è il vostro collegamento con i modelli vibrazionali e la saggezza espansa dei regni spirituali a frequenza elevata attraverso i molti aspetti del vostro sé superiore. Molto probabilmente, in questa fase, inizierete ad avere lampi di ispirazione attraverso l'intuizione, che viene accelerata con la meditazione e l'introspezione. Il potere della mente è così rafforzato e l'aspirante spirituale inizia a vedere il mondo e gli eventi in corso da un punto di vista più elevato che costituisce un'immagine più ampia, più estesa della realtà. I centri dei chakra gradualmente ritornano all'equilibrio e all'armonia ed iniziano il processo di integrare la saggezza superiore della sacra mente e del sacro cuore, lavorando così in armonia tra di loro, sotto la direzione dell'anima e del sé superiore superanima. Un essere fisico barra umano, che funziona all'interno dei modelli distorti di frequenza della terza dimensione inferiore barra quarta dimensione, usa il subconscio e la mente conscia unitamente ad una sovrapposizione di ricordi delle passate incarnazioni. Egli barra e la è per lo più concentrato verso l'esterno ed è fortemente influenzato dai condizionamenti familiari, ed anche dalle tradizioni culturali e dalla religione. I modelli di pensiero sono spesso distorti e solitamente egocentrici, vedendo in tal modo soltanto il quadro ridotto. Ci sono ancora molte giovani anime nei paesi sottosviluppati, che operano nella loro natura animale barra umana e sono principalmente concentrate sui loro tre chakra inferiori. A questo livello i centri dei chakra sono per lo più centri della mente inconscia. Queste care anime sono principalmente influenzate dal subconscio e dalle menti a coscienza limitata. Esse sono guidate dalle memorie della vita e razza passate e da una istintiva realtà di sopravvivenza. La maggioranza è fortemente concentrata sulla sopravvivenza propria e della propria famiglia. Queste sono le preziose anime che saranno portate su altri pianeti primitivi dove lo spettro di polarità barra dualità della terza barra quarta dimensione sarà nel giusto equilibrio. Questi cari esseri avranno un'opportunità di proseguire il loro viaggio nei regni fisici della coscienza in un ambiente molto più piacevole ed arricchente. Voi, seme stellare, apri pista sul sentiero, siete coloro che stanno rendendo possibile tutto questo, perché avete accettato di incarnarvi nei livelli più densi della materialità al fine di contribuire ad alzare nuovamente la consapevolezza cosciente di tutta l'umanità verso le regioni illuminate della luce e della maestria del sé. Tuttavia, dovete ricordare che, indipendentemente dall'età della coscienza della vostra anima e dalle cose straordinarie e benevole che avete portato a termine nel passato, la scelta di seguire il sentiero di luce deve essere fatta consapevolmente in ogni vita, in ogni incarnazione ed ogni ciclo di esperienza. Molti di voi sono sulla buona strada per scoprire il sentiero illuminato tra gli opposti polarizzati l'equilibrio, che esiste nel centro della dualità. È arrivato il tempo in cui sempre più di voi attingeranno ed integrando selezioneranno modelli vibrazionali della quinta dimensione ed anche una quantità limitata delle frequenze della sesta dimensione. Connettendovi e visitando la città celeste eterica di luce nella vostra zona, gradualmente le frequenze appropriate di luce filtreranno nel vostro doppio eterico, che risiede nella vostra colonna di luce personale piramide di luce. Quest'energia rarefatta lentamente scenderà attraverso la vostra colonna di luce personale nella vostra stela dell'anima, il vostro ottavo chakra. La vostra superanima sè superiore determinerà in che quantità e quanto velocemente potete integrare in sicurezza questo dono di luce del creatore. Per darvi un'idea di cosa aspettarvi quando guadagnate l'accesso ai sottolivelli della sesta dimensione attraverso le città celesti di luce, abbiamo chiesto alla nostra messaggera di condividere con voi ciò che ha sperimentato e sta sperimentando nei suoi viaggi notturni in questa meravigliosa realtà del futuro. Come vi abbiamo spiegato nel nostro messaggio di luglio 2010, un processo di riunificazione è in pieno svolgimento in tutto l'universo, e specialmente in questo subuniverso. Uno dei cambiamenti più drammatici in atto è la fusione di tutti gli insegnamenti spirituali barra religiosi con gli insegnamenti cosmici unificati sotto la direzione del concilio cosmico di luce. Vi riportiamo quel messaggio per una migliore comprensione. Dal messaggio di agosto 2010. Poco dopo l'inizio del vostro anno 2010, abbiamo dato alla nostra messaggera, conosciuta in questa vita come Ron Ayrman, una visione. Questa visione è stata condivisa con coloro che nel mese di maggio 2010 hanno frequentato il suo seminario aprirsi alla canalizzazione e diventare un essere cosmico telepatico. Adesso è tempo di condividere questa informazione con tutti voi che state diligentemente cercando il sentiero della luce. Vi trasmetteremo il nostro messaggio con le parole della nostra messaggera così come è stato dato al gruppo, che ha partecipato all'evento. Carissimi amici, la visione, che sto per condividere con voi si è manifestata poco dopo il primo dell'anno 2010. Durante la meditazione, ho visto un gruppo di esseri risplendenti vestiti di bianco, in piedi in semicerchio intorno ad un gigantesco cristallo biterminato. Il cristallo le radiava un bellissimo spettro di colori, e c'erano inoltre complessi modelli geometrici di luce, che lampeggiavano attraverso il cristallo e ne fuoriuscivano. Altri erano presenti, ma gli esseri, che ho riconosciuto erano l'Arcangelo Michele, Yeshua, Yuhal K.H.U.L., El Moria e Santo Germain. Mi venne detto che le informazioni specializzate, individuali dai maestri, Arcangeli e grandi esseri di luce sarebbero continuate come prima. Tuttavia, in aggiunta, ci sarebbero stati insegnamenti di messaggi unificati, saggezza da molti grandi esseri, avatar e maestri del passato e del futuro. Gli insegnamenti di saggezza del passato si sarebbero fusi con gli insegnamenti di saggezza del futuro e sarebbero stati presentati come insegnamenti del concilio cosmico di luce. Queste nuove informazioni vengono codificate all'interno del grande cristallo e si lo hanno paragonato ad un gigantesco computer cosmico, e saranno disponibili per coloro che hanno frequenze compatibili con le frequenze appositamente graduate del grande cristallo. Più frequenze raffinate possedete, più sarete in grado di accedere ai raffinati livelli di informazioni dal grande cristallo cosmico. Mi è stato detto che tutte le informazioni che ricevo sarebbero arrivate ancora attraverso i modelli vibratori dell'Arcangelo Michele, dal momento che sono in sintonia con la sua energia. Egli mi trasmetterà ancora i suoi messaggi mensili, tuttavia per i libri, che scrivo, la scuola per la ricerca della maestria ed i seminari, che tengo, riceverò anche insegnamenti barra informazioni da alcuni dei membri del concilio cosmico. Per fare distinzione tra i due, per i messaggi del concilio, userò il titolo Ronna la sacra scrivana. Sarò ancora sovrailluminata dall'energia dell'Arcangelo Michele ed i messaggi composti che ricevo saranno per lo più dall'Arcangelo Michele, Yeshua, D.U.L.K.H.U.L., e il Moria, Santo Germain. Attraversare i sette sottolivelli della sesta dimensione. Ronna la sacra scrivana. Quasi ogni notte, attraverso la meditazione e la mia intenzione dichiarata, vado nella mia piramide personale e mi unisco al mio doppio eterico sul tavolo di cristallo. Sovente vengo portata nella città celeste di luce nella nostra zona o in altri luoghi di apprendimento. L'Arcangelo Michele per primo nel mese di dicembre 2004 ci ha parlato delle città di luce, che contengono le dimensioni dalla sesta alla dodicesima. Queste città celesti sono enormi e al di là della nostra immaginazione. Alcune di queste sovrailluminano intere nazioni. Egli ci ha dato una convalida miracolosa con un'immagine dell'apertura del portal e su Grimes Point, il sito sacro del Nevada durante l'attivazione della colonna dell'ascensione, che abbiamo fatto la su sua richiesta. Da allora, centinaia di migliaia di persone hanno creato una colonna di ascensione nel loro luogo di residenza, e molte di queste persone visitano regolarmente la città celeste di luce, che sovraillumina il loro paese. Vi sto offrendo le mie impressioni ed esperienze personali in modo, che possiate sviluppare un'idea o un'immagine di cosa potete aspettarvi quando avete accesso ai vari sottolivelli della regione della sesta dimensione nella città di luce nella vostra zona. Sono sicura, che tutte le città di luce sono configurate come quella che ho visitato, che sovraillumina la parte nord-occidentale degli Stati Uniti. Sebbene i dettagli siano alquanto complessi, li semplificherò il più possibile, e vi darò soltanto una breve visione di insieme. Ricordate, ci sono sette sottolivelli all'interno di ognuna delle dodici dimensioni del nostro subuniverso. Il tredicesimo livello è dove risiede Dio nostro Padre barra Madre, con il nucleo del Creatore nel cerchio più interno. Primo sottolivello della sesta dimensione all'interno della città di luce la parete più esterna del corridoio è piena di nicchie, che contengono le sedie del cristallo acceleratore dell'ascensione. Trascorriamo del tempo su queste speciali sedie con i brillanti raggi di luce, che si riversano su di noi ed attraverso di noi per aiutarci ad accelerare il processo di pulizia, raffinazione e purificazione dei nostri modelli energetici negativi. Alla fine, quando è opportuno, entrerete nelle nicchie sulla parte interna del corridoio mentre progredite lungo le sale di passaggio. Secondo sottolivello quando sarete progrediti fino ad un certo livello, si aprirà una porta sul retro della nicchia, e sarete guidati in una piccola camera a forma di piramide. Qui lascerete un doppio eterico di voi stessi sul tavolo di cristallo mentre attraversate i molteplici livelli della sesta dimensione. Mentre siete a questo livello, vi coricherete sul tavolo di cristallo affinché le vibrazioni appropriate della sesta dimensione possano fluire attraverso il vostro vascello fisico, purificandolo e pulendolo, in preparazione dell'integrazione futura di modelli di frequenza sempre più elevati. Terzo sottolivello Questo è il livello dell'apprendimento superiore in cui inizierete a ricevere informazioni nuove, vitali che dovete integrare e mettere in pratica nella vostra esistenza fisica. A volte sono guidata a coricarmi sul tavolo di cristallo ed altre volte sono messa su una sedia di cristallo vicino ad un tavolo. Posso sentire che ci sono esseri di luce nella stanza, ma non posso vederli chiaramente ed essi non si identificano. Quarto sottolivello Questo livello è colmo di squisiti modelli di frequenza di luce, che fluiscono in ogni direzione in forme, colori e modelli fantastici. Nel tempo, inizierete gradualmente a percepire la differenza di ogni colore e modello ed acquisirete la capacità di riconoscere la differenza nelle centinaia di sfumature di colore. Acquisirete inoltre la comprensione che i colori contengono codifiche di pensiero, tuttavia, sono sicura che ci vorrà molto tempo per imparare a decifrarli. Sto appena iniziando ad avere qualche impressione e da volte questo è molto frustrante. Quinto sottolivello Questo sottolivello è pieno di musica celeste gloriosa, toni, canti e modelli musicali unici. Acquisirete la comprensione di quanto sia vitale il suono, e quale parte importante abbia la vostra stessa voce nel perfezionare o infettare il vascello fisico. È interessante che io abbia iniziato a sperimentare questo livello quando ho avuto maggiori difficoltà con la mia gola. Dall'intervento, e quando il processo di guarigione è stato completato, ho iniziato ad avere un intenso desiderio di intonare i suoni delle vocali, cosa che ho fatto regolarmente da allora. Inoltre, ho intonato i cinque nomi sacri delle cinque sacre lingue per lungo tempo, tuttavia, improvvisamente, ho iniziato a cantarli e questa è una cosa davvero potente e meravigliosa. Ho anche ricevuto altre istruzioni concernenti l'uso delle nostre voci come strumenti di trasformazione, che spero di condividere con voi in futuro. Sesto sottolivello Questo è il livello della geometria sacra. Non ho trascorso molto tempo in questo livello, tuttavia sono consapevole, che è pieno dei modelli di luce della geometria sacra, insieme a suono e colore. È un vero mondo sensoriale di stimoli piacevoli per la mente, il corpo e l'anima. Vi darò un aggiornamento più avanti quando ne saprò di più. So che trascorrerò molto tempo a questo livello prima di essere autorizzata a procedere al settimo livello della sesta dimensione. Per favore, siate consapevoli che noi portiamo indietro dalla sesta dimensione soltanto una piccolissima quantità dei modelli di frequenza. Siamo ancora concentrati ed intensamente attivi all'interno dell'ambiente di quinta dimensione e passerà moltissimo tempo prima che siamo pronti a sentire o integrare tutta la forza e la potenza di uno dei sottolivelli dimensionali al di sopra della prima metà della quinta dimensione. Ricordate inoltre che ogni volta che visitate una delle piramidi della quinta dimensione che abbiamo creato, voi portate indietro un po' di più dei modelli vibrazionali, qualità ed abilità di quel livello. Se siete disposti, vi consiglio vivamente di impostare il vostro intento di entrare nella vostra piramide di luce personale prima di andare a dormire, e poi chiedere di essere portati nella città di luce nella vostra zona in modo da poter trarre vantaggio dai doni incredibili che vengono offerti a tutti noi. Tuttavia, siate consapevoli che nel tempo la vostra vita cambierà drasticamente come risultato, ed il vostro processo di ascensione accelererà in modo drammatico. Ci saranno prove e difficoltà lungo la strada, ma vi assicuro, cari amici, che ne vale la pena? Eterno amore e benedizioni angeliche, la vostra sorella d'anima, Ronna. Dall'Arcangelo Michele. Ricordate, miei coraggiosi, durante questi tempi in cui l'evoluzione della Terra e dell'umanità sta progredendo rapidamente, voi potete fare la differenza. Permetteteci di aiutarvi a portare a termine la vostra missione e a nutrirvi con il nostro amore. Siamo sempre vicini per guidarvi e proteggervi. Io sono l'Arcangelo Michele. Trasmesso tramite Ronna Herman. Traduzione di Madda Cermelli